Allora, sottosegretario, una delle questioni importanti sulla quale lei si è molto concentrata è quella di portare in cattedra i migliori e quindi di puntare all'assunzione dei precari, ma in che modo? Allora, portare in cattedra i migliori può significare portare in cattedra i precari o portare e portare anche in cattedra giovani energie per il Paese. Per questo motivo per me è importantissimo fare partire il prima possibile il concorso ordinario che è stato già bandito e per il quale si sono iscritti più di 450.000 persone e concludere il concorso straordinario per i precari che si è quasi concluso del tutto. Lei ha parlato di una inaccettabile sanatoria in qualche modo appunto dei precari. In che senso? Che vuol dire? Guardi, a mio avviso i precari, cioè le persone che nella scuola hanno investito buona parte delle loro energie e del loro tempo sono risorse preziosissime per la scuola, sono persone preparate e parlare di sanatoria a mio avviso li demonizza. Siccome sono persone preparate che hanno potuto partecipare al concorso straordinario, che potranno partecipare anche al concorso ordinario, è corretto che il loro servizio, a fine dell'espletamento del concorso, abbia un valore aggiunto, perché chiaramente l'esperienza va valorizzata. Per cui, espletato il concorso, è chiaramente importantissimo che la loro esperienza abbia un peso nel punteggio finale. Questo è un argomento chiave in questo momento perché, sa, ci sono anche delle petizioni che si stanno susseguendo online, in quanto si sta diffondendo la notizia per cui, per i concorsi, soprattutto per l'ordinario, è possibile la cancellazione di una prova preselettiva che va a fare una cernita prima delle tappe concorsuali e che addirittura si valuti solo per titoli e servizi. Possiamo avvalorare questa tesi, questa notizia o smentirla? Allora, facciamo chiarezza. Nel Decreto Legge 44, quello del 1 aprile, l'articolo 10 definisce le modalità dei concorsi pubblici in generale, quindi anche quelli per la scuola. In cosa consiste e cosa norma questo articolo? Fa sì che tutti i concorsi possano espletarsi in sicurezza e in velocità, viste le necessità plurime che abbiamo, intanto di assumere il più personale possibile nella scuola e anche in altre pubbliche amministrazioni e di farlo in sicurezza. Affinché questo possa realizzarsi, si stanno immaginando procedure di velocizzazione, ma per accedere ai concorsi bisogna essere ovviamente in possesso del titolo, del prerequisito per accedere a quello stesso concorso, solo dopo e dopo l'esplendamento delle prove si prenderanno in considerazione anche titoli di servizio, nonché esperienza professionale. Quindi in qualche modo possiamo rassicurare sul fatto che in corso d'opera non sia a questo punto possibile cambiare un concorso modalità di selezione già bandito. Il concorso ordinario è stato già bandito e così come nell'articolo 10,1 lettera C, noi possiamo leggere che una fase di valutazione dei titoli legalmente chiaramente riconosciuti serve ai fini dell'ammissione dei titoli. Poi invece oltre ai titoli culturali si possono aggiungere i titoli, ripeto, di servizio e di esperienza professionale solo ai fini del punteggio finale. A proposito del concorso ordinario, il ministro Brunetta ha parlato di velocizzazione nei concorsi della pubblica amministrazione. Per quanto riguarda il concorso ordinario, quindi il concorso della scuola, abbiamo comunque una data precisa? No, una data precisa non c'è, ma si cercherà di velocizzare il prima possibile, perché io ricordo che abbiamo 78 mila cattedre che attendono immissioni in ruolo, insomma abbiamo 78 mila posti per immettere in ruolo docenti, metà di questi sono dedicati allo straordinario che come dicevo prima si sta espletando e poco più della metà sono dedicati a questo concorso ordinario, quindi velocizzare è importantissimo. Se poi dovessimo avere l'opportunità di avere ulteriori cattedre che chiaramente sia il ministro che io e tutte le forze politiche stiamo chiedendo, si vedrà se sarà necessario bandire ulteriori concorsi. Come si recuperano gli apprendimenti perduti? Allora, la pandemia ha messo in ginocchio non soltanto l'economia, ma anche la cultura del nostro e non soltanto del nostro paese. Il gap culturale che si è creato sarà difficile in generale da recuperare. Ad ogni modo si farà il massimo e come si farà il massimo? Cercando di implementare, migliorare, aumentare, far sì che si possa anche nel periodo estivo avere l'opportunità di offerta formativa, di offerte formative, di attività, di apprendimento anche nel periodo estivo, senza alcun obbligo, ma per far sì che i ragazzi possano anche nel periodo estivo avere opportunità di socializzazione e di relazione, perché molte volte non è soltanto l'apprendimento di una competenza, ma è anche la capacità e la modalità di relazionarsi agli altri e del confronto che sviluppa la capacità dei ragazzi del loro sviluppo psicofisico. È stato in qualche modo appurato che la scuola non sia luogo di alta trasmissibilità, di alto contagio, quindi sul ritorno in presenza come Ministero state lavorando per potenziare e per migliorare ovviamente questa possibilità? Certo, intanto si è già lavorato, infatti da oggi sono in classe di nuovo altri 5 milioni di studenti e studentesse, ma non soltanto, si è lavorato per circoscrivere quella che spesso era la libertà dei presidenti di regione e dei sindaci che a titolo precauzionale chiudevano anche troppo spesso le scuole nonostante la norma nazionale, quindi si è messo un freno a queste libertà dei presidenti di regione. E inoltre a livello proprio di organizzazione e di sicurezza delle scuole nel decreto sostegni sono stati stanziati 150 milioni proprio per potenziare quelle che sono le misure di sicurezza nelle scuole. Infine le chiedo, ritiene necessario posticipare le lezioni? No, non lo ritengo necessario perché significherebbe dire ai nostri docenti, significherebbe dire ai nostri ragazzi che la grande fatica di avere strutturato un anno scolastico un po' in presenza, un po' in dad, sia stato tempo sprecato. L'anno è stato espletato e quando finirà giugno è corretto che si completi con una valutazione. È chiaro che ogni docente ha dovuto modellare la propria programmazione sapendo che stava affrontando un anno ancora in piena pandemia, a differenza dello scorso anno che ci siamo trovati all'improvviso in piena pandemia. Quindi io ritengo che l'anno scolastico vada completato così com'è e poi in estate, nella prima parte dell'estate, in piena estate, che ci siano attività di recupero, come sempre ci sono state nelle scuole, magari a fine giugno e primi di luglio, ed estate in armonia con gli enti territoriali magari delle attività, come dicevamo prima, di socializzazione e di approfondimenti culturali in genere. Grazie. 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 Grazie.